Una siracusana dipendente di una banca gira un film porno e viene licenziata in mobbing. Alla donna dipendente da 17 anni è arrivata prima una lettera di ammorimento, poi quella di licenziamento per giusta causa da un istituto bancario a Retoseo. Così una quarantena piemontese, ma siracusana d'adozione, ha perso il lavoro sostenendo che la causa è da collegare a foto con pose o se pubblicate sui social. Così ha deciso di impugnare il provvedimento. L'avvocato Piero Ortisi che assiste alla donna parla di mobbing e ribadisce che è stata illegittimamente sospesa perché sostiene le circostanze attinenti alla vita propria del lavoratore e non godono di alcuna rilevanza, soprattutto laddove siano estranei al contesto professionale. Inoltre, osserva il legale, i fatti posti alla base della contestazione sarebbero in ogni caso null'altro che libera espressione della sfera sessuale privata e personale della dipendente. Dopo la sospensione ha anche girato un film porno dal titolo La bancaria di Siracusa.